Sulmanì! Mi piace! Mi piace! Stavo a dimensieme! Grazie! Come avete sentito il microfono un po' fischia, non possiamo alzarlo più di così perché è vicino. Quindi magari cerchiamo solo di fare un po' più di silenzio così si sente meglio. Perché adesso diamo la parola a una dei due portavoce, che è Maria Rosaria Malapena. Grazie per te! Grazie! Buona idea, io sento! Buongiorno! Buongiorno! Siamo donne e rome. Siamo le fie, e io e gli osciguali, bisnescuali, Grazie a tutti, grazie a tutti, perché non è loco con me e siamo anche atti, atti, raggi e atti, disabili, senza mettere il pompa o a niena e siamo molto attivo, siamo tutto quello che siamo, ma siamo liberi. Siamo liberi e felici e tu che stessi diventati o diventati, diventati o diventati, richiederti, e non è loco di muro. Ma i miei dimori tutte le volte che io ti aprirei, o per aiutati o capire tutte le volte che io ti rispetterai e ti offenderai, pensando di essere il più forte, quello giusto, dito e senza rupe. Mentre i miei dimori, perché sono pazienti, i tuoi bellissimi, subiti, noi, tutte e tutti, condividemo, adesso è esattamente quello che siamo. e siamo, ti amo, non mi dicessi, a ci amo, piedi e tira in cielo. Sì! Sì! Pa che io ci laureate, mangiare al cuore! Grazie mille!